buongiorno a tutti sono luca rigon responsabile del servizio post vendita e dell'area servizi tecnologici per l'agricoltura in agro servizi srl vi presento crono la punta di diamante per la semina di precisione di maschio gaspardo il suo nome non a caso evoca il concetto di tempestività è un'attrezzatura che infatti consente di sfruttare al meglio le migliori condizioni di semina grazie all'elevata produttività che la contraddistingue crono è disponibile nelle versioni portata a 6 file con telaio telescopico il modello 306 e trainata ad 8 file con telaio pieghevole carrello centrale il modello 708 e ricopre potenze dai 110 ai 150 cavalli l'elemento di semina crono è dotato di un sistema di distribuzione ibrido una parte aspirata tradizionale per la selezione del seme la depressione può arrivare sino ad un valore di meno 80 millibar con la particolarità che il corpo distributore è inclinato di 15 gradi per eliminare ogni componente obliqua nel distacco del seme ed una parte soffiata fino a 400 millibar di portata d'aria che consente di condurre il seme ad alta velocità verso il terreno per eliminare ogni alterazione dovuta ai moti dell'elemento in lavoro l'elemento di semina crono ha una struttura molto robusta ha un peso proprio di circa 145 kg ed è dotato di una sospensione pneumatica a soffietto caricabile direttamente dal compressore freni aria del trattore questo tipo di sospensione gli consente di ovviare a qualsiasi problema di irrigidimento non trattandosi di una molla meccanica e di poter ottenere un carico addizionale di 150 kg aspirazione e compressione della distribuzione del seme sono regolabili in maniera indipendente in modo da poter gestire qualsiasi tipo di seme in qualsiasi condizione sulla macchina sono infatti presenti il tradizionale sistema di depressione a turbina ed un compressore a lobby per l'alimentazione del soffiaggio delle linee di distribuzione del seme entrambi con regolazioni indipendente l'uno dall'altro crono è caratterizzata dall'elevata produttività incrementata del 50 per cento a parità di larghezza di lavoro rispetto ad una seminatrice convenzionale da elevata precisione sia nel mantenimento della distanza che della profondità di semina e dalla capacità di gestire qualsiasi tipo di fondo dal convenzionale al sodo passando per il semi lavorato di base gli azionamenti della macchina sono completamente elettrici dal motore per il dosaggio del seme al motore per l'erogazione del microgranulato ai motori per l'erogazione del concime standard in alternativa è disponibile la trasmissione meccanica per la concimazione granulata la seminatrice è governata dalla piattaforma di controllo genius master è un sistema in protocollo a isobass che monitora costantemente l'operatività della macchina attraverso la propria rete di sensori e consente di poter sfruttare tutte le funzionalità isobass avanzate quindi il controllo automatico delle sezioni sia per quanto riguarda i motori di semina che i motori dell'erogazione del microgranulato che i motori di erogazione del concime standard e le funzionalità di dose variabile in questo caso limitate al seme e al concime granulato ergonomica veloce e precisa in poche parole assolutamente efficace grazie grazie grazie